Eccoci ragazzi nella seconda parte del video dedicato al montaggio degli Angel Ace sulla nostra amatissima Alfa Romeo Mito come possiamo notare partiamo subito con la rimozione delle tre alette sull'Angel per il fissaggio non so in quale faro e ovviamente le togliamo così da non renderle visibili dall'esterno principalmente quindi è soltanto per un pregio estetico e basterà semplicemente eliminarle così ecco vi dico le specifiche dell'Angel Ace è un Angel Ace ovviamente con voltaggio 12 volt colore 6000 kelvin bianco puro anche se ho notato che è leggermente azzurrino credo o forse sono io che sono dal tonico e quindi niente le specifiche sono queste non posso linkarvi l'Angel perché non è un oggetto che mi hanno regalato comunque sia che sponsorizzo quindi se mai chiedetemi consigli o l'aiuto su quale acquistare vi darò una mano detto ciò andiamo a infilarci il nostro Angel dentro il cerchietto del faro ovviamente facciamo passare il filo ah una cosa che non vi ho detto quel cilindretto nero che vedete è la resistenza quindi questo un Angel che ha la capacità di inibire l'errore del cdb computer di bordo a questa terminologia complessa l'ho fatto aderire parallelamente a tutte le pareti del cerchio del faro e ovviamente l'ho messo in modo tale che sia tutto nascosto che non si veda nemmeno il filo infatti come vedrete tra un attimo andrò a incollare il filo lungo il faro ho utilizzato una colla molto potente della bostick voi potete prendere quella che più vi piace io comunque sia ho selezionato questa mi sembrava la più adatta spero che non si scolli ovviamente l'ho incollato su tutte le parti che aderiscono alla perfezione sul faro non so se si vede dalle immagini io più o meno lo vedo ma non tocca su tutti i lati è inevitabile perché la plastica è fatta in questa maniera quindi mannaggia fiat ho incollato inoltre anche il filo così il filo non starà a penzolone in giro quindi ho cercato di fare il lavoro più pulito possibile come potete vedere dalle immagini nel video una volta che abbiamo incollato tutto possiamo iniziare a mettere la plastica dentro al faro fissiamo tutto facciamo passare il cavo dell'angel nelle parti meno fastidiose penso di aver fatto il lavoro al meglio possibile così da non recare fastidio magari al motorino del livellamento delle luci degli anabaglianti inoltre ho fascettato i cavi dell'angel insieme all'altro blocco di fili quindi è stato un lavoro molto certosino ragazzi magari non vi faccio vedere tutto perché ci sono parti che non si possono registrare proprio in cui lavoro proprio dentro al faro è un lavorone comunque mi sono fatto passare i cavi sopra perché andremo a collegarli alle luci della lampadina t20 quella di posizione e qui è un lavoro abbastanza complesso in quanto dobbiamo fare il collegamento io volevo che l'angel ace fosse collegato alla luce diurna quindi alla 21 watt in ogni caso non potete sbagliarvi sul collegamento della massa dell'angel in quanto il cavo che trovate tra i tre rossi il cavo che trovate singolo è quello della massa quindi se non sta in colonna è quello della massa e su questo non potete sbagliarvi mentre su quei due rossi che vedete in colonna uno è rispettivamente della 5 watt e uno della 21 watt voi dovete collegarlo a quello che vi risponde con 21 watt che sarebbe quello della luce diurna ovvero quella che tenete insomma la mattina ecco quando accendete soltanto la macchina senza attivare gli anabbaglianti in ogni caso se vi sbagliate rifate il collegamento ecco nulla è perduto non vi scoraggiate io vi consiglio l'utilizzo di un tester così andate a botta sicura ho fatto il fissaggio con questi questi morsetti di collegamento non ho saldato in quanto è una posizione molto scomoda e ho preferito agire in questa maniera comunque sia funziona tutto è tutto insomma in regola ecco non vi si brucia niente anzi è tutto molto protetto l'importante è che non lasciate cavi scoperti quindi una volta che ci siamo fissati il tutto anche quello il cavetto positivo dell'angel che va collegato a un cavo della 21 watt mi sono attaccato l'adesivo alfa romeo consiglio dovete metterlo leggermente più in basso ecco verso destra in quanto tocca vicino la cornice ovviamente fate un test di funzionamento quindi staccate il connettore dal faro quello dentro la macchina lo tirate su è molto lungo come cavo lo collegate ai fari qui ho acceso tutto zero errori tutto nella norma tutto regolare andiamo a vedere ovviamente dovete avere attive le luci di urne dentro al computer di bordo qui funziona tutto molto belli colore molto bello come potete vedere gli anabbaglianti sono spenti adesso controprova con agli abbaglianti accesi e infatti gli angelis sono spenti e tutto a posto io vi consiglio di rimuovere tutte le lampadine se avete lampadine all'interno e inoltre vi consiglio di ridurre lo spazio delle plastiche scaldando e avvicinando quindi portarle al allo spazio alla distanza originale il più possibile io mi sono adeguato con la pistola termica scaldando parecchio la plastica l'ho riportata a livello e ovviamente fatto tutto questo andiamo a pulire tutte le cromature io ho utilizzato un prodotto per per vetri e puliamo anche tutta la la cornice del nostro faro e ovviamente dobbiamo pulire la copertura infatti se vedete tutta sozza la puliamo benissimo dentro fuori non fa niente se gli diamo comunque una pulita però non fa niente così resta qualche macchia però dentro deve essere come nuova ovviamente poi ci andiamo a rimuovere tutte le sporcizie di di mastico e rimasto eccoci ragazzi finalmente siamo pronti per chiudere il faro per chiuderlo ho utilizzato questa colla anzi questa gomma perché è una gomma in butile butile credo o butilene non mi ricordo comunque sia vi lascio il link in descrizione l'ho comprata su amazon un bel rotolone che basta per due fari e avanza pure quello che vedete è tutto avanzo e andate a inserire questa striscia dentro le sedi del faro vi fate tutto il contorno la mettete bene in fondo e non tiratela troppo perché non ce ne deve stare poca ecco ce ne deve stare anzi è meglio quasi forse abbondare che toglierle quindi una volta che uno si è pulito tutto il faro la spolvera tutto per bene ha rimosso tutte le lampadine ha inserito la striscia gommata è pronto a richiuderlo quindi si inserisce il nostro bel vetro io l'ho inserito più a fondo possibile per metterlo nella sede corretta e una volta fatto ciò si può passare a scaldare il faro per scaldarlo cosa ho fatto io mi sono preso una scatola che vedrete a momenti e appunto ho inserito il faro dentro la scatola ho chiuso tutto ho fatto un buco per inserire la pistola termica che vedete lì in basso arancione ovviamente ho acceso la pistola termica e l'ho lasciata per quasi 15 minuti a 250 gradi io sinceramente la prima volta che lo faccio non so dirvi se è giusto o no però io ho fatto così non mi si è squagliata la plastica non mi si è squagliato niente e ho richiuso tutto e mi sembrava tutto a posto una volta che è tutto bello squagliato andiamo a spingere bene con dei guanti ragazzi perché bolle il faro veramente scotta non vi preoccupate se sporcate il vetro di colla perché a me è successo mi si è attaccato un po' di colla sui guanti senza me ne sono accorto e poi appoggiandomi appunto sul faro l'ho sporcato ma si può pulire tranquillamente con del VD40 prendete un po' di VD40 sullo scottex e andate a togliere la colla la colla viene via subito quindi proprio non preoccupatevi e quindi riportiamo tutte le strisce tutti i contorni del faro a paro con la plafoniera trasparente ovviamente qui dobbiamo avere tanta pazienza e chiudere al meglio perché più uno riesce a chiudere ermeticamente e più hai sicurezza che non entri l'acqua e che il faro non faccia condensa vi posso dire che io ho anche già lavato la macchina proprio ho sparato con l'idropulitrice sul faro non fa condensa non entra acqua quindi posso dirvi che ho eseguito il lavoro bene nelle parti in cui ci fossero piccoli spazi o vuoti io ho utilizzato del mastice nero silicone e ho richiuso tutto ho passato appunto questa striscia lungo tutto il bordo per mettere tutto bello a paro proprio per creare una guaina perfetta ve lo consiglio e vi consiglio di farlo nonostante ci sia la gomma sotto imbutile che già di per sé chiude perfettamente il faro se avete fatto tutto correttamente però insomma sempre meglio essere sicuri anche perché il faro io non lo riapro ecco non credo che vorreste farlo anche voi quindi mi sono ricoperto di mastice e di silicone sopra la gomma tutto il faro eccoci finalmente tutto montato vi lascerò il link al video dello smontaggio dei fari perché sennò questo video veramente diventava di 70 ore tutto funziona perfettamente tutto una bomba quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace commentate iscrivetevi alla pagina instagram Mitch Tuning iscrivetevi soprattutto al canale ciao a tutti ragazzi iscrivetevi al canale